Questa sera abbiamo ospite, dicevo Andrea Purgatori. Andrea Purgatori lo conosciamo tutti, giornalista. Giornalista inviato dal Corriere della Sera dal 76, nell'80 consegue il Master in giornalismo alla Columbia University e sempre come inviato dal Corriere della Sera si occupa di casi davvero estremamente scottanti sul terrorismo in Italia, il caso Moro, il caso Ustica, ma soprattutto come inviato nel Medio Oriente segue un po' tutte le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, a partire dalla missione in Libano, la guerra Iran-Iraq, la guerra del Golfo, fino ad arrivare a quelle che allora avevamo definito le primavere arabe. Oltre che giornalista è uno straordinario saggista, fra le tante voglio ricordare solo i segreti di Abu Omar e poi autore e sceneggiatore per il cinema e per la televisione. Nel cinema come non ricordare il muro di gomma, Fortapash, il giudice ragazzino. Per la televisione non voglio fare il lungo elenco degli sceneggiati a cui ha contribuito, però mi fa piacere ricordare che è anche attore, indimenticabile il camerata fecchia in Fascisti su Marte e poi oltre a tutte queste attività ha trovato anche il tempo di presiedere Greenpeace Italia dal 2014 al 2020 se non sbaglio e da ultimo di pubblicare un bellissimo romanzo che questo lo vedete qui sul tavolo Quattro piccole ostriche e visto che siamo in un festival letterario mi fa piacere partire dal romanzo per introdurre poi gli argomenti che Andrea ci proporrà nel corso della serata. Il romanzo è splendido perché lo potremmo definire un giallo, un thriller, forse un giallo perché narra delle vicende di una ex spia della Stasi, il servizio segreto della Germania democratica e le vicende di questa ex spia, di questo Marcus, l'ex spia della Stasi, nel trentennio che va dalla caduta del muro fino ai festeggiamenti del trentennale della caduta del muro. Però definirlo un romanzo giallo è molto riduttivo, in realtà ha dei profili quasi da romanzo storico perché leggendo questo romanzo si riesce a comprendere molto bene cosa è accaduto con la caduta del muro come si sono sviluppati gli eventi negli anni successivi fino ad arrivare alla soluzione che naturalmente, non essendo perfido non vi dico ma la soluzione che si prospetta intorno al trentennale dalla caduta del muro. Vi dico solo questo, il romanzo è bellissimo e credo che descriva le straordinarie qualità di Andrea Purgatori per completezza, per capacità di analisi, per complessità delle analisi. Si riflettono nel romanzo perché pensate, questo è il primo giallo che si conclude non solo con il colpo di scena finale, che comunque poi c'è e è bello ma vista la complessità della trama, la straordinaria complessità della trama si conclude con una relazione della cancelliera Merkel che spiega come finisce il romanzo. Ed è davvero estremamente interessante, ovviamente sempre con la penna di Andrea. E dicevo, partiamo dal romanzo perché poi queste capacità, queste abilità di trattare gli argomenti in modo così completo, in modo così analitico e soprattutto di indicarci di indicare a chi legge o a chi ascolta i suoi reportaggi, chi vede i suoi reportaggi tutte le fila che alla fine danno corpo a fenomeni estremamente complessi come quelli che ho appena richiamato. Ecco, credo che leggendo il romanzo si possa fare una ottima conoscenza di quel periodo piacevolezza estrema nella lettura e naturalmente avere un'idea di come Andrea affronta gli argomenti. L'argomento di questa sera ha un bellissimo titolo, è l'amico americano. L'amico americano ovviamente nell'ambito del festival John Fante lo si può sviluppare in tanti modi. Però io credo, se Andrea ovviamente è d'accordo su questo, considerando che l'amico americano negli ultimi giorni è un po' impegnato a cercare di panare la catastrofe, forse potremmo dire, che è successa con il ritiro precipitoso da Kabul, credo, se Andrea è d'accordo, ci farebbe piacere sentire non solo come vede lui questa situazione, ma anche un po' cercare di capire perché l'amico americano e noi con lui, da 20 anni eravamo in Afghanistan, era quella la risposta giusta nel 2001, quali sono i motivi meno evidenti, meno apparenti che hanno condotto a questo esito e soprattutto che cosa ci aspetta, Andrea? A te la parola. Guarda, intanto non funziona, ecco, funziona, sì, funziona. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, grazie, grazie di questo invito, io giuro che quando l'ho accettato e ho accettato il tempo non sapevo come sarebbe andata a finire in Afghanistan, però mi impressiona abbastanza questa cosa perché tu parlavi del romanzo, il romanzo comincia, inutile, non è un modo per spoilerare, ma sono le prime pagine, comincia con il delitto di un diplomatico sovietico nel Tiergarden Park di Berlino e dopo due mesi che è uscito il romanzo hanno ammazzato un diplomatico russo nel Tiergarden a Berlino e l'editore si è preoccupato e io mi sono preoccupato, stasera tu mi hai fatto questi meravigliosi complimenti, io ho l'occhio che guarda quel palazzo in vendita, ho detto non è che sono venuto qua, hanno deciso meglio che ce ne andiamo, vendiamo tutto. Ma detto questo e detto che comunque questo romanzo potrebbe anche essere letto semplicemente come una guida di Berlino perché comunque... O come un corso di tedesco perché la puntualità di Andrea fa sì che tutte le strade, tutti gli uffici della polizia... No ma perché io ho seguito molto il lavoro degli scrittori degli ultimi decenni americani, li ho intervistati, sono stato a casa loro di grandi bestseller e quindi ho succhiato un po' il loro modo di lavorare e che è fatto soprattutto di una grande ricerca iniziale, di un lavoro di ricerca puntiglioso che si avvicina molto a quello giornalistico e che è un modo per poi poter raccontare una storia calandola in mezzo alle strade, tra la gente, nei luoghi che uno poi può andare a rivedere. Questa secondo me è una delle qualità maggiori che hanno questi scrittori che poi vendono milioni di copie nel mondo e che per molti versi diciamo si appoggiano a un signore che ha un piccolo ufficio a New York, a Central Park West e che è il loro consulente al quale loro si rivolgono e che gli dà diciamo una visione del luogo nel quale raccontare le storie. Detto questo, allora io mi ritengo un giornalista molto fortunato ma mi ritengo soprattutto un giornalista quindi quello che dirò questa sera non lo dirò né come storico né come politologo né come analista di intelligence ma come giornalista e quindi certamente diciamo esprimerò anche un punto di vista molto personale che però va nella direzione di chi va nei posti, osserva e prova a raccontare nel modo più corretto possibile ciò che vede essendo passato attraverso diciamo una stagione fondamentale che è stata quella che ha cambiato le nostre vite ovvero io andavo in Medio Oriente quando occupavo il 50% del tempo per vedere e cercare di raccontare quello che accadeva e il 50% del tempo per cercare un telefono con una linea che funzionasse. Tutto questo oggi è superato, oggi si va con un telefono satellitare in qualunque parte del mondo prendi il telefono parli eccetera avrai guadagnato enormemente diciamo in ore frenetiche a volte drammatiche alla ricerca della possibilità di comunicare perché altrimenti sarebbe stato inutile andare dove andavo però dicevo sono un giornalista da questo punto di vista che ha attraversato questo confine e poi anche molto fortunato nel senso che avendo una mia disponibilità personale a essere pronto e curioso mi mandavano in guerra poi tornavo mi mandavano in Sicilia a vedere i morti ammazzati di mafia poi mi mandavano a intervistare un grande scrittore americano poi mi mandavano, ho avuto culo come si dice, bisogna averne un po' di questa cosa qua anche qualunque professione. Si vede che ho attraversato diciamo una serie di percorsi nei quali mi sono trovato testimone. Certo essere stato 20 anni testimone delle guerre in Medio Oriente mi ha dato la possibilità di poter dire oggi quello che penso di ciò che sta accadendo e quello che sta accadendo diciamo in qualche modo ripropone uno schema che si è già verificato perché per chi non ricorda o ricorda poco dell'invasione dell'Iraq anche lì gli americani ma poi una coalizione internazionale dove l'ONU aveva perso il suo potere la sua capacità di essere una guida in qualche modo ma diciamo che forse l'ha persa definitivamente nei Balcani quando ha fatto da testimonia delle strage e dei massacri che non si possono nemmeno raccontare ma diciamo l'Iraq fu invaso dagli Stati Uniti dopo l'Afghanistan e dopo le Torri Gemelle di cui ricorre l'anniversario tra poco l'11 settembre saranno 20 anni da quell'attacco che io lo scrissi il giorno dopo sul Corriere della Sera feci una pagina intera che era si intitolava la disfatta dei servizi segreti americani perché così fu nel senso che il congresso aveva analizzato il lavoro dell'intelligence americana solo pochi mesi prima e ne aveva concluso che adesso vado a memoria che diciamo le varie agenzie di intelligenza americane erano si muovevano con un atteggiamento egoistico omertoso con una diciamo incapacità di comunicare le une con le altre. In più c'era l'ossessione tecnologica di cui parlavo oggi con Virginia e questa ossessione tecnologica aveva dato fino a un certo punto agli Stati Uniti la sensazione di poter essere protetti da uno scudo invincibile. Noi attraverso la NSA, attraverso la nostra struttura diciamo di controllo tecnologico di ciò che accadeva in terra, in mare, in cielo ci sentiamo parlo come se fossi un uomo dell'intelligence americana di quel tempo ci sentiamo protetti, sicuri e l'11 settembre dimostrò invece che tutto questo non esisteva ovvero che era possibile anche superare quell'ossessione tecnologica. Questo cambiò in molto il lavoro dell'intelligence non solo americana ma internazionale, si passò dalla cosiddetta techint cioè la technological intelligence alla humint cioè la human intelligence, si tornò anzi all'human intelligence, si tornò a diciamo far sì che gli uomini dell'intelligence sul campo fossero diciamo maggiormente valutati maggiormente ascoltati. Cosa provocò l'attacco alle torri gemelle? La decisione che il presidente Clinton non aveva preso precedentemente di individuare in Osama Bin Laden l'uomo come poi effettivamente si capì che aveva organizzato questa operazione. Tenete presente che la storia di Osama Bin Laden è una storia molto complessa perché lui è un uomo che nasce in Arabia Saudita, è uno dei componenti di una famiglia ricchissima saudita, famiglia di costruttori, molto legata alla monarchia di Riyadh, monarchia considerata dagli iraniani una monarchia usurpatrice nel senso che loro si erano autoproclamati monarchi di questo territorio in parte costruito diciamo a tavolino con la riga e con la matita e che a un certo punto andò in Afghanistan a combattere i russi armato e finanziato dagli Stati Uniti. Quindi fino a un certo punto Osama Bin Laden era uno dei nostri come lo fu Saddam Hussein come in qualche modo nemici diciamo diventarono nemici numero uno dell'Occidente come poi lo diventò anche Gaddafi. Quindi sono storie che si ripetono e Osama Bin Laden armato dalla CIA, armato con i missili Stinger che buttavano giù gli elicotteri russi eccetera eccetera a un certo punto invece diventò il capo di Al-Qaeda formazione terroristica che aveva una sua base diciamo in Afghanistan, territorio complesso in Afghanistan che è territorio di tribù, è territorio montagnoso, è territorio praticamente inespugnabile, non c'è riuscito mai nessuno a espugnare diciamo a conquistare davvero quel territorio. Osama Bin Laden era lì, era diventato quello il suo diciamo la sua base fondamentale d'appoggio e Osama a un certo punto cambia diciamo la sua posizione e diventa un avversario, un nemico degli Stati Uniti. Al-Qaeda finanzata anche dall'Arabia Saudita, non ci dimentichiamo che tra l'11 settembre del 2001 e gli ultimi giorni della presidenza di Obama, Obama fino all'ultimo fatica a rendere pubbliche un certo numero di pagine, di rapporti segreti dell'intelligence americana che certificavano le responsabilità dell'Arabia Saudita nel sostegno a Osama Bin Laden. L'Arabia Saudita ha una storia, ne abbiamo parlato e ne abbiamo sentito parlare negli ultimi tempi per il caso Cassoggi, il giornalista saudita, anche lui fatto a pezzi nella consolato saudita di Istanbul. Ma poi ci arriviamo. Questa responsabilità è una responsabilità che si intreccia anche con parte della politica americana. Il fratello di Osama Bin Laden aveva una società con la famiglia Bush. I sauditi della famiglia Bin Laden erano in America benvenuti, erano persone che avevano non solo accesso a quel paese ma godevano di tutti i benefici di questa amicizia privilegiata. E quando poi si vanno a ricostruire le storie degli attentatori delle torri gemelle si scopre non solo che erano tutti quanti schedati dalle varie agenzie che poi non si sono scambiate le informazioni ma che l'Arabia Saudita, o perlomeno parte della nomenclatura dell'Arabia Saudita capo dell'intelligence, principi e altri funzionari senza scendere nei dettagli avevano fino a proprio al giorno prima mandato bonifici anche a questi signori che poi si stavano addestrando a pilotare gli aerei soltanto in decollo e non in atterraggio e già questo avrebbe dovuto in qualche modo accendere delle spie ma a chi in qualche modo stava controllando che cosa succedeva nelle scuole di volo. L'attacco alle torri gemelle rivela questa enorme fragilità quella che io chiamo ossessione tecnologica degli Stati Uniti e il presidente Bush Junior, figlio di George Bush Senior che era stato a sua volta presidente dopo Reagan decide che bisogna colpire la centrale del terrorismo di Al Qaeda che è in Afghanistan e unilateralmente con l'appoggio poi di altri paesi tra cui anche l'Italia decide l'invasione di quello Stato e lì comincia una storia complessa perché è vero che i talebani voi ricorderete che distruggevano le statue cosa che peraltro stanno facendo anche adesso che sono sempre stati che sono poi comunque diciamo una componente molto tribale primitiva dell'Afghanistan molto legati alle popolazioni i contadini che coltivano l'oppio da cui si ricava l'eroina che viene smerciata dall'Afghanistan in tutto il mondo questi talebani sono diciamo veramente delle persone difficili da gestire difficili da comprendere con le quali non esiste alcun tipo di accordo possibile anche oggi quando dicono noi vogliamo proteggere garantire i diritti eccetera cioè dicono una cosa in Medio Oriente questo è abbastanza normale ti dicono una cosa e poi ne fanno un'altra ti dicono una cosa e ne pensano altre tre ma in quel caso davvero diciamo io non so come abbia fatto l'ex presidente del Consiglio Conte a dire bisogna trattare con i talebani perché mi sembra che si stiano comportando diversamente da prima non capisco come faccio a dirlo essendo stato fino a ieri mattina dentro uno studio legale gli faccio grazie di essere stato presidente del Consiglio come si fa a dire una cosa del genere senza ascoltare almeno un diplomatico che è stato lì che ti racconti che cosa sono effettivamente i talebani allora questa invasione che doveva portare alle distruzioni di Al-Qaeda cosa che in parte, in gran parte è avvenuta fino all'uccisione di Osama Bin Laden che peraltro si era rifugiato in Pakistan nel 2011 in realtà non ha sortito gli effetti che vent'anni di presenza occidentale in quel paese dovevano sortire ovvero diciamo la costruzione di uno stato se non democratico, parademocratico o comunque vagamente somigliante a uno stato democratico dove la corruzione non era eliminata ma ridotta ai minimi termini e dove soprattutto c'era un esercito che veniva addestrato, armato e istruito per diciamo reggere le sorti di quel paese oggi, dicevo a Virginia gli Stati Uniti hanno speso 80 miliardi di dollari per addestrare 180 mila afghani che non hanno sparato un solo colpo di fucile nelle 36 ore in cui i talebani 30 mila hanno deciso di riprendersi il paese ora la decisione di ritirarsi dall'Afghanistan era una decisione presa da Donald Trump non l'ha presa Joe Biden però Joe Biden evidentemente ha fatto male i conti rispetto a quello che era stato deciso adesso arriviamo anche diciamo a provare a raccontare dal mio punto di vista quello che diciamo negli ultimi anni gli Stati Uniti pensano rispetto alla loro presenza nel Medio Oriente che però per quello che è successo in Afghanistan somiglia molto a ciò che è successo in Iraq in Iraq a un certo punto gli Stati Uniti hanno deciso di ritirarsi perché dico gli Stati Uniti anche se c'erano gli italiani se c'erano gli altri paesi perché è inevitabile diciamo immaginare quale sia il rapporto di forza tra gli Stati Uniti e gli altri paesi che appoggiano una coalizione sostanzialmente è la presenza americana che fa la differenza non è certo quella italiana né tedesca né inglese e quant'altro in Iraq che cosa è successo? che nel periodo in cui è stato invaso il paese oltre diciamo ad avere in qualche modo allevato nelle carceri e quelli che sarebbero stati poi i leader dell'Isis compreso l'ultimo che è stato ucciso poi alla fine dagli americani ma insomma ormai l'Isis era diciamo irrotta aveva perso la sua guerra forse mi sto dilungando ma proprio sto cercando di fare un giro d'orizzonte anche lì quando gli americani si ritirano si ritirano senza avere lasciato sul campo una visione politica di ciò che l'Iraq rappresenta che è sostanzialmente un paese diviso in tre a est c'è il Kurdistan a sud ci sono gli sciiti che rappresentano una maggioranza importante all'interno del paese e a nord ovest i sunniti i sunniti sono stati abbandonati a loro stessi l'Isis è diventato da una parte se vogliamo considerare geopoliticamente che cosa è stata quella organizzazione una sorta di muro nei confronti dell'Iran sciita qui entriamo dentro diciamo le divisioni che ci sono nell'Islam tra sunniti e sciiti l'Iraq era considerato un paese diciamo sunnita governato da un Saddam Hussein che era un uomo socialista e guidava un partito socialista il partito Abbas era un paese certamente diciamo dove c'erano alcune libertà e altre non c'erano come nessun paese del Medio Oriente non esisteva l'opposizione non era possibile però abbandonando il paese al suo destino senza avergli dato una prospettiva un progetto politico ha fatto sì che quel vuoto sunnita sia diventato la spina dorsale dell'Isis noi abbiamo visto i filmati di questi giovani barboni con il Kalashnikov certo ce n'erano 25.000 30.000 forse cosiddetti foreign fighters cioè combattenti che venivano dall'estero per andare a combattere con l'Isis ma quei filmati non rappresentavano esattamente la situazione e diciamo la conformazione dell'Isis l'Isis era formato sostanzialmente da ex militari ex uomini dei servizi segreti di Saddam Hussein che era sunnita e che aveva fatto sì che la classe dirigente maggioritaria in Iraq fosse sunnita si sono sentiti abbandonati a loro stessi e non hanno trovato di meglio che mettere insieme il fondamentalismo islamico rappresentato dalla parte diciamo jihadista dell'Isis con le loro istanze che erano istanze di controllo del territorio un territorio che avevano perduto a tutto questo si è sommato come al solito l'appoggio dell'Arabia Saudita che ogni volta diciamo finanzia questi movimenti terroristi perché li considera una forma di assicurazione no? Se qualcuno forse ricorda il GIA in Algeria il movimento fondamentalista jihadista che a un certo punto si impossessa quasi dell'Algeria tagliavano la gola alla gente per strada non parliamo degli occidentali io sono stato là fino a che si è potuto rimanere lì si erano impossessati dello stato algerino che era uno stato anche quello laico era nato diciamo sulle ceneri di una rivoluzione era un paese progressista in qualche modo diciamo sempre nei limiti del Maghreb nei limiti di quello e era finanziato l'Arabia Saudita l'Arabia Saudita ha finanziato Al-Qaeda poi ha lasciato Al-Qaeda e ha finanziato l'Isis un po' in funzione antiraniana e un po' perché comunque era un'assicurazione come dicevo prima per evitare i guai dentro casa un po' come il Lodo Moro se ne parla tanto qualcuno forse ne ha sentito parlare qualcuno non sa cos'è ma fu un accordo che ai tempi diciamo negli anni 60 Aldo Moro riuscì a mettere in piedi garantendo che in cambio diciamo di una sorta di impunità per i palestinesi che a quel tempo erano guidati dall'OLPA ma avevano anche delle frazioni diciamo militarizzate molto molto forti che sequestravano aerei persone eccetera non fate nulla sul nostro territorio e in cambio noi non vi creiamo problemi e così fu e in qualche modo è andato avanti per decenni ma questo per esempio è successo anche con il Belgio che ha garantito ai terroristi che poi fanno gli attentati in Francia a Parigi a dicembre una sorta di impunità e nel momento in cui i francesi impongono ai belgi di andare a prendere i terroristi che stanno nel ghetto di Molenbeek che sono quelli che hanno organizzato le stragi di Parigi quelli giustamente si vendicano e vanno a fare gli attentati in Belgio cosa che non c'era stata prima io adesso sto volando proprio di qua e di là però ho anche bevuto il vino rosso ottimo qui in Montepulciano quindi voi questo me lo perdonerete e allora tornando all'Afghanistan fatto fuori Al-Qaeda diciamo questo investimento politico sociale che è stato fatto è la cosa che più mi rattrista che ha consentito alla componente femminile di quella popolazione di riuscire a guadagnare una percentuale in alcuni casi abbastanza consistente in altri casi minima ma comunque superiore allo zero rispetto a quello almeno zero che c'era prima e diciamo tutto questo investimento è stato buttato alle ortiche in una ritirata improvvida che non ha tenuto conto questa volta nemmeno delle informazioni dell'intelligence che dicevano guarda presidente Biden che se tutti ritiri da un giorno all'altro quelli entrano come il burro e quindi abbiamo visto che cosa è accaduto adesso il problema vero è l'evacuazione non soltanto dei connazionali ma di tutti quelli che hanno lavorato per la coalizione in vent'anni che sono decine di migliaia di persone ieri alla riunione del COPASIR il capo del DIS ha detto che solo noi ne dobbiamo rimpatriare duemila ed è giusto farlo perché questa è tutta gente che rischia la pelle perché i talebani non sono quello che hanno dichiarato e il mullah che diciamo li guida che è stato nelle carceri americane di Guantanamo fino quasi all'altro ieri è un po' appunto come dicevo prima la fotocopia del mullah che poi ha deciso la nascita del califato dell'isis in Iraq quindi come vedete la storia si ripete e si ripete con una insipienza incapacità di visione e leggerezza che gli Stati Uniti ma anche tutte le altre potenze occidentali hanno nel gestire la loro presenza in quel territorio che è un territorio estremamente complesso ma che è anche una polveriera dove noi sappiamo che diciamo prima o poi può scoppiare un conflitto che può avere proporzioni incalcolabili ed è naturalmente la storia dei vuoti e dei pieni cioè se io lascio l'Afghanistan e decido che non darò più nessun aiuto a quel paese perché ci sono i talebani ma ci arrivano i russi e i cinesi ed è la stessa cosa con l'Iran io sospendo il negoziato a questo Trump sul nucleare con l'Iran ma è chiaro che l'Iran va a prendere le armi dai cinesi e dai russi cioè quindi diciamo non c'è soltanto un problema di disfatta dal punto di vista di ciò che noi abbiamo visto in questi giorni che è spaventoso gente che cade agli aerei aggrappata ai carrelli ma il problema è che cosa accade sul piano geopolitico quando tu lasci un vuoto quando lasci un vuoto in quella regione del mondo quel vuoto viene riempito e se non viene riempito da un movimento terroristico viene riempito da un altro paese che probabilmente è il tuo nemico numero uno o avversario numero uno e tutto questo comporta degli stravolgimenti i cui effetti ancora non conosciamo ho detto una serie di enormità voi mi perdonerete se qualcuno è riuscito a capire quello che ho detto bene grazie grazie a te Andrea grazie a te anzi da quello che hai detto stavo raccontando oggi in macchina a Virginia un aneddoto che mi riguarda che però spiega bene che cosa accade oggi allora lo posso raccontare in pochissimi minuti scoppia la guerra del golfo la prima guerra del golfo io ero a Tunisi perché avevano ucciso il braccio destro di Arafat Abu Ayyad che era il comandante militare dell'OLP torno a Roma in una situazione surreale aeroporto di Fiumicino deserto la paura oddio che cosa succede adesso dopo le torri gemelle eccetera e aspetto di avere il visto per partire per Teheran per l'Iran che mi devono dare al giro di 3-4 giorni mi chiama una collega americana e mi dice guarda che c'è l'addetto militare dell'ambasciata americana che ti deve assolutamente incontrare con urgenza ti deve dire delle cose vabbè io lo incontro in un ristorante non l'avevo mai visto in vita mia entro nel ristorante mi guardo intorno e vedo uno con i capelli a spazzo la biondo con che stava così perché aveva una pistola qua sotto e un'altra sotto le ascelle vabbè insomma non c'era molto da scoprire mi siedo e davanti a un piatto di rigatoni al pomodoro lui mi dice senta lei ha scritto qualche mese fa dall'Iraq che su una strada che va da Baghdad a Beji Beji è una località nord di Baghdad che è uno diciamo dei centri più importanti dal punto di vista petrolifero ma soprattutto per l'energia perché c'ha una centrale idroelettrica che serve praticamente il centro-sud del paese lungo questa strada lei ha scritto che c'è una fabbrica di oli minerali che in realtà è una fabbrica di armi chimiche di così è vero l'ho scritto nell'articolo e lui mi dice senta tira fuori un pezzo di carta mi dice allora mi dice esattamente su questa strada quanti metri ci sono dalla strada al cancello e al palazzo della fabbrica e io capisco che mi sta chiedendo le coordinate per bombardarlo e gli dico guardi io scusi avete cominciato la guerra nel golfo l'altro ieri pensavo che le aveste queste coordinate ma me lo sta chiedendo a me dopo che sono sei mesi che state preparando questa guerra e gli dico guardi io comunque faccio il giornalista non faccio la spia quindi no ma qui in questo momento in tutto il mondo altri come me stanno parlando con i giornalisti perché questa è una guerra dell'Occidente della libertà della democrazia contro un dittatore che voi avete armato e gli dico sì vabbè ma adesso comunque lui è il nemico e quindi quanti metri ci sono da qua a là e io gli dico guardi io quello che dovevo scrivere dire lo scritto quindi più di questo non poi dopo una decina di giorni il generale Schwarzkopf ha fatto vedere uno dei filmati che faceva vedere nella conferenza stampa in cui l'avevano bombardato però questo mi ha molto allarmato perché comincia la guerra del golfo con la CNN che fa vedere in diretta i bombardamenti eccetera e uno pensa questi sapranno tutto per lo meno della fabbrica di armi chimiche ma me lo viene a chiedere a me cioè io ecco questa è no cioè è la esemplificazione personale di come poi queste cose funzionano che è una cosa inimmaginabile no perché uno pensa ammazza questi arrivano con gli aerei con le portaeree con anche gli italiani no con le forze speciali arrivano di qua di là scendono eccetera e poi mi viene a chiedere a me come è fatto sto palazzo per bombardarlo è un po' curiosa come cosa per non dire altro no ma infatti quello che colpisce in questa ritirata così improvvisa gli americani sono quelli che hanno inventato in qualche modo le procedure di verifica e di controllo e invece ci siamo accorti che non solo non avevano piani di evacuazione ma non hanno nemmeno avuto sentore dell'esercito dell'esercito afgano degli effettivi dell'esercito afgano tutto questo posso dirti dopo avere trattato perché c'era una conferenza diciamo per una trattativa in corso da alcuni mesi con i talebani certo quindi voglio dire tu non capisci con chi stai trattando non capisci che cosa sta per accadere fai ritirare le truppe senza curarti di decine di migliaia di persone che per vent'anni hanno collaborato con te e che ora rischiano la pelle non ti preoccupi ripeto delle donne di come potranno essere trattate di nuovo e come stanno per essere trattate di nuovo cioè tutto questo secondo me indica una superficialità pericolosa perché se tu in vent'anni non hai capito questo mi domando che cosa succede rispetto alla questione del nucleare iraniano dove ha interrotto una trattativa e gli israele va a ammazzare tutti i tecnici del progetto nucleare quelli non si fermano cioè come fai a pensare di fare la pace in Medio Oriente senza far sedere l'Iran al tavolo solo perché israele ti dice no non li voglio cioè è una cosa che io lo capisce anche un bambino non riesco a immaginare come loro non riescano a capire queste cose banali che sono banali e come poi alla fine noi ci accodiamo nel partecipare a queste operazioni in entrata in uscita senza renderci conto di ciò che accade ecco infatti a questa superficialità che ci rappresentavi se ne può aggiungere poi un'altra ancora peggiore cioè non riuscire ad immaginare la compromissione del prestigio degli Stati Uniti che ormai le rende quasi impossibile che continuare ad esercitare un'azione di leadership mondiale tant'è che oggi proprio su Repubblica Timothy Gartonash pubblicava una serie di ipotesi su cosa potrebbe accadere ora che gli Stati Uniti hanno di fatto abdicato a questo ruolo di guida fra le varie ipotesi nessuna nuova potenza in grado di esercitare una leadership oppure una leadership condivisa oppure ancora diceva Timothy Gartonash potrebbe anche essere potrebbe anche verificarsi l'ipotesi che l'Europa riesca quantomeno come primus inter pares a esercitare un'azione politica di coordinamento l'Europa è stata un po' assente ed è stata assente non solo in questa ritirata è assente da tanti anni sullo scenario geopolitico mondiale è possibile secondo te immaginare che anche questa situazione comporti un maggior impegno dell'Europa comporti una voce un po' più autorevole dell'Europa forse una voce unica ma io partirei da una considerazione e cioè che comunque diciamo la leadership la media della leadership politica mondiale si è abbassata in maniera preoccupante ovunque in Europa ma anche negli Stati Uniti lo stesso Joe Biden non era diciamo il candidato forte che avrebbe potuto contrastare Donald Trump se non ci fosse stato il Covid cioè se non ci fossero state una serie di condizioni che hanno ribaltato quelli che in effetti sembravano essere i pronostici elettorali per il secondo mandato alla Casa Bianca che Trump secondo me avrebbe vinto se non ci fosse stato il Covid e se non ci fosse stato Donald Trump che comunque ci ha messo del suo che nel romanzo viene indicato se non ricordo male come il presidente americano che ha la bocca culo di gallina per me ha la bocca culo di gallina però sarà un mio punto di vista non lo so ma sì però ecco e questo non è però non è una considerazione da poco cioè se noi togliamo Angela Merkel che può piacere o non piacere ma certamente è una spanna sopra gli altri cioè il resto dei leader europei forse Draghi lo dico senza piageria ma comunque diciamo il fatto di avere guidato per dieci anni la banca centrale e di essere riuscito anche nella testa di Donald Trump ad essere un personaggio perché a un certo punto lui quando litigò con il presidente della Federal Reserve disse scrisse qui ci vorrebbe un Mario Draghi no? cioè quindi allora tolta Angela Merkel e tolto Mario Draghi io francamente non riesco a vedere diciamo dei leader capaci di avere un carisma e una visione se non nel rapporto bilaterale cioè il problema dell'Europa qual è stato da un certo punto in poi è stato quello del io mi faccio gli affari miei intanto no? mi faccio i miei accordi anche con i dittatori faccio i miei accordi con i paesi peggiori del mondo e poi dopo va bene in Europa cerco di insomma di fare la figura di quello che sia europeo vediamo facciamo eccetera senza poi fare nulla allora qui non c'è nessuno che ha una visione europea c'è però una novità e cioè rispetto a Donald Trump che era uno che aveva a sua volta privilegiato il rapporto bilaterale dicendo a me dell'Europa in sé come diciamo comunità politica non me ne frega niente mi interessa di volta in volta un rapporto con Boris Johnson per quanto riguarda la Gran Bretagna mi interessa la Merkel per altre cose forse mi interessa l'Italia perché ho le basi per interessi specifici Biden ha fatto un'operazione almeno inizialmente interessante ovvero ha cercato di rimettere insieme l'Europa cioè ha capito che aveva la necessità di avere un alleato che fosse un alleato composito nei limiti compatto non più semplicemente privilegio un paese piuttosto che un altro ma cerco di privilegiare una comunità politica che è comunque un continente e che volendo se qualcuno avesse la voglia il tempo e la capacità rappresenterebbe effettivamente un interlocutore diciamo che può agire nelle situazioni di crisi internazionali tutto questo io non so se potrà accadere francamente la qualità umana delle persone politica che vedo è molto bassa quindi ho dei forti dubbi però certamente l'Europa ha fatto negli ultimi decenni una figura diciamo la figura di quello che sta fuori sul pianerottolo mentre dentro fanno la festa e non gli aprono questa è un po' la storia no? non ti fanno entrare tu stai fuori aspetti senti che c'è musica brindano stappano ma insomma non ci sei e questo bisogna vedere chi riuscirà poi a capirlo e a metterlo in pratica certamente il problema vero è che cosa noi riusciremo a fare nei confronti della Russia e della Cina perché c'è stato un momento ma è stato un momento secondo me importante in cui a un certo punto dell'Africa non gliene è fregata più niente a nessuno e la Cina è sbarcata in Africa e allora io per esempio sono stato in Sudan e in Sudan la Cina ha in mano la chiave d'accensione del paese cioè se gira la chiave il Sudan si spegne si spegne le luci si spegne gli armamenti si spegne la possibilità di avere il cibo tutto cioè quel paese ma adesso faccio l'esempio del Sudan per capirci quel paese è totalmente nelle mani della Cina e come il Sudan gli altri se non al 100% al 70% all'80% eccetera cioè la Cina ha fatto questa politica molto silenziosa molto sotto traccia di diciamo appropriazione di zone del mondo che erano state abbandonate dalle due superpotenze poi c'è la Russia e la Russia sappiamo bene che il Medio Oriente si è infilata in tutti i vuoti che sono stati lasciati liberi ma anche lì voglio dire il discorso di Putin è un discorso molto più complesso perché se è vero che lui ha diciamo ristabilito e ricreato un orgoglio nazionale molto forte perché comunque la Russia è fortemente nazionalista quindi sul piano per esempio delle forze armate eccetera è vero che comunque all'interno c'è una crisi economica non da poco e questo pesa però e anche Putin quindi diciamo andategliela a dire che non vi piace quello che fa e poi vediamo che succede però sta di fatto che diciamo i nostri piccoli formichini della politica italiana di fronte a questi signori sbavano cioè l'idea pensando che Putin la mattina si sveglia e dice che farà stamattina Matteo che farà stamattina Matteo che fa mi vuole bene non mi vuole bene dico Matteo perché ce ne sono più d'uno che fa no oppure Xi Jinping che la mattina si sveglia e dice ma chissà se mangerà il pollo alle mandorle stasera cosa no e non hanno capito che cioè noi siamo semplicemente un campo da tennis da affittare oggi voglio giocare a tennis affitto il campo e non mi rompere le scatole questa è un po' la sostanza allora il punto è anche diciamo capire come vogliamo porci noi rispetto a questi a questi signori perché noi ormai ci siamo venduti quasi tutto siamo un po' come quei nobili che abitano nell'ultima stanza del castello e si sono venduti tutto il resto no poi tra un po' non c'è più la legna per riscaldare non c'è più non ti arriva più l'acqua non ti arriva la cosa alla fine ti mandano via pure dall'ultima stanza del castello diciamo che siamo un po' come quei signori dell'ottocento che avendo venduto tutto vivevano in albergo finché non finivano i soldi e poi l'albergatore li cacciava via secondo me rischiamo di fare questa fine se non c'è un'inversione di tendenza eppure se guardassimo la rilevanza in termini economici dell'Europa la pilla dell'Europa è ancora di poco di pochissimo superiore al PIL della Cina e di gran lunga superiore al PIL della Russia lo dicevi lo ricordavi prima tu la Russia comunque ha una crisi economica di assoluto rilievo e tutto sommato il nostro PIL non è poi così lontano da quello americano da un punto di vista tecnologico forse l'Europa brilla più in tecnologie ormai mature forse meno effervescente sulle nuove tecnologie ma guarda su questa cosa per esempio se ne parla poco però paradossalmente mentre sul piano politico non si riesce a trovare un minimo comune denominatore sul piano della difesa e sul piano tecnologico invece questa cosa funziona nel senso che esiste una diciamo un'interazione tra almeno i paesi più importanti dell'Europa per sul piano militare sul piano tecnologico della difesa eccetera adesso qui non voglio entrare militaristi non militaristi eccetera non voglio fare questo discorso lo sto facendo semplicemente per dire che volendo se tu capisci che quello è come si dice un asset un bene un capitale che può fruttare le industrie della diciamo della difesa lo hanno capito no? e guarda quello che è riuscito a fare l'Airbus rispetto ai colossi americani dell'aviazione per cui la Boeing a un certo punto ha dovuto fare si sono dovuti mettere al tavolo a discutere perché se no rischiavano no? allora l'Europa non è che è l'ultima arrivata ce l'ha le sue capacità di essere diciamo attore internazionale in questo teatro il problema è come dicevamo prima la frammentazione per cui diciamo io vado in Egitto e mi faccio gli affari miei con Al Sisi poi ci va quell'altro a te che ti servono due fregate te le do io quell'altro gli serve te la do io quello gli servono gli aerei te li do io e alla fine però poi chi gode Al Sisi al cui non riusciamo a chiedere di incriminare quattro assassini che c'ha dentro casa che hanno ammazzato Giulio Reggeni ma ti sembra una cosa normale assolutamente no sicuramente no sempre parlando di Europa quella che è stata vissuta come una battuta d'arresto del processo poi su Giulio Reggeni potrei aprire una parentesi britannica e via dicendo ma non lo voglio fare stasera se non finiamo mai io stavo chiedendo proprio sulla Gran Bretagna perché sembrava una battuta d'arresto la Brexit alla luce di quello che è accaduto dopo la pandemia probabilmente se ci fosse stata ancora il Regno Unito nell'Unione Europea non avremmo avuto il recovery plan non avremmo avuto l'emissione di titoli del debito europeo quindi forse la Brexit non è un evento così catastrofico come poteva sembrare catastrofico per Boris Johnson nel senso che è uno che si è trovato e gli avevano era convinto che dal transatlantico americano gli avrebbero buttato una cima per tirarlo poi gliel'hanno tagliata e dall'altra parte non c'è è in una zattera non so come va a finire il rischio secondo me è che diventerà un paradiso fiscale e quindi diciamo perché è l'unica alternativa che può avere ma dal punto di vista diciamo della anche proprio geograficamente di ciò che può portare a casa a me sembra che l'operazione della Brexit sia una follia già i pescatori nell'accordo che hanno fatto per la Brexit i pescatori britannici inglesi sono furibondi perché pretendevano ma che vuoi fare tieniti la regina e ciao si direi una risposta molto efficace sintetica ma molto efficace bene invece tornando un po' alle questioni più di casa nostra ti sei occupato dei casi più scottanti della storia della Repubblica dal caso Moro di cui tutti pensiamo di aver compreso la dinamica ma in realtà è una dinamica che cambia ogni volta che ci si ripensa fino a tutto lo stragismo fino a ti sei occupato in modo particolare del caso Ustica ora sul caso Moro ci farebbe molto piacere sentire una tua lettura una tua spiegazione del caso Moro che sembra apparentemente semplice ma che in realtà a voler scavare un po' di più le cose non sono così lineari come sembrano ma guarda semplice non è nel senso che comunque diciamo se la vogliamo raccontare sul piano politico la visione di Moro era quella di superare il bipartitismo imperfetto che c'era tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista che erano i due partiti maggioritari in Italia in un momento in cui c'era ancora il muro di Berlino la guerra fredda e in cui l'idea che il Partito Comunista italiano il più grande Partito Comunista d'Occidente diciamo potesse in qualche modo partecipare a un governo di un paese che faceva parte dell'Alleanza Atlantica era una specie di eresia una bestemmia poco prima poco prima insomma mesi prima di essere sequestrato e poi ucciso Aldo Moro andò in una visita ufficiale negli Stati Uniti e ebbe un incontro con Henry Kissinger che era consigliere per la sicurezza del presidente Nixon durissimo talmente duro che Moro che era un uomo estremamente gracile dal punto di vista proprio della diciamo dell'approccio che lui poteva avere con con delle persone invece come Kissinger molto molto determinate rimase talmente turbato da interrompere la visita ufficiale e tornare e tornare in Italia e questo racconto io l'ho sentito fare dalla moglie di Moro nel primo processo nell'81 dopo il delitto del sequestro insomma il delitto di Viafani il delitto del marito questa sua idea era un'idea appunto in quel momento contro la quale erano contrari gli Stati Uniti ma persino l'Unione Sovietica quindi era diciamo un uomo non scomodo pericoloso considerato un uomo pericoloso allora posto che comunque l'Italia attraverso la strategia e la tensione e attraverso tutte le stragi che ci sono state è un paese che si dimostra a sovranità limitata perché ove più ove meno le mani esterne esterne al paese che cercano di manovrare quello che accade sono confermate dalle prove non sono una cosa che sto dicendo io capisci bene che insomma questo paese così a sovranità limitata è un paese che non riesce a fare i conti con ciò che è accaduto fino in fondo io però sono meno pessimista di chi dice ci sono i misteri che noi non riusciremo mai a risolvere nel senso che in effetti grazie a una serie di circostanze magistrati investigatori associazioni familiari eccetera diciamo nella grande maggioranza degli eventi più drammatici che hanno segnato la storia della Repubblica noi una fotografia di ciò che è accaduto ce l'abbiamo sappiamo cosa è accaduto poi ci mancano dei piccoli pezzi ci manca il dettaglio forse la mano dell'assassino materialmente chi ha messo quella bomba chi ha sperato quel missile però questo è quasi diciamo dal punto di vista storico quasi irrilevante per me perché sarebbe stato molto peggio se io non avessi avuto neanche la fotografia e il resto della fotografia invece io ce l'ho ce l'ho è un po' come dire sì è un puzzle mi mancano cinque pezzi ma è un puzzle di 150 pezzi e io 145 ce li ho quindi io so che a Bologna la bomba è stata una bomba neofascista e guarda caso quest'ultima tranche dell'indagine che ha portato dentro Licio Gelli che non è un'indagine come qualcuno può pensare di sinistra no è stata fatta dal procuratore generale di Bologna che si chiama Ignazio De Francisci e che era il più giovane componente del pool di Giovanni Falcone e Giovanni Falcone aveva questa regola che era follow the money segui il denaro e questo procuratore generale di Bologna seguendo il denaro a distanza di 40 anni anzi 39 adesso sono 40 ma l'indagine quando l'ha chiuso è riuscito a individuare i bonifici che questo signor Gelli ha fatto a chi poi doveva mettere le bombe alla stazione di Bologna quindi diciamo poi alla fine questo parlo di Bologna parlo di Ustica chi è il responsabile l'aereo libico l'aereo francese gli americani non importa c'erano tutti e noi per primi che abbiamo fatto passare i libici perché eravamo ricattati dai Gaddafi siamo dentro questa vicenda quindi io la fotografia ce l'ho quello è stato un atto di guerra in tempo di pace e dove un aereo civile è finito diciamo nel mezzo di questa e nessuno lo poteva raccontare in quel momento in quel momento in cui il Mediterraneo era una pentola a pressione che poteva esplodere in qualunque momento dove i Gaddafi era il nemico numero uno e l'Occidente come lo sarebbero stati poi Saddam Hussein e Osama Bin Laden niente di più niente di meno era l'uomo che aveva incastrato il presidente Jimmy Carter attraverso il fratello che aveva preso le tangenti per l'acquisto di aerei da trasporto militari che dovevano essere trasformati in civili e che invece noi abbiamo trasformato in aerei da trasporto militari alle officine aeronavali di Venezia mentre il presidente e Cossiga riceveva tutti quanti i capi di stato per il G8 o G7 non mi ricordo dell'epoca cioè capite cioè quelli scendevano a Venezia e si parlava del terrorismo si parlava della Palestina non bisogna fare questo e quell'altro e a 500 metri c'erano i capannoni dove noi per conto di Gaddafi di nascosto trasformavamo degli aerei Lockheed comprati con delle tangenti parte delle quali era andata al fratello di Jimmy Carter negli Stati Uniti con la Libia sotto embargo e noi li trasformavamo in aerei militari usati per la guerra in Sudan contro i francesi cioè questa è l'Italia questa è l'Italia no cioè quindi di che cosa però lo sappiamo cioè non possiamo dire ah non sappiamo niente no sappiamo sappiamo chi c'entra sappiamo le impronte digitali di quelli che c'erano poi voglio dire se è andata come sull'Oriente Express dove ognuno ha dato una coltellata vabbè saranno responsabili in 5 in 6 in 4 in 3 mi importa poco io però so che su quel treno c'erano tutti questi signori ecco abbiamo parlato del caso Aldo Moro ma parlando di Aldo Moro è rimasta memorabile la sua relazione al congresso DC credo di Bari una relazione durata 6 ore oggi quando ascoltiamo un leader politico al massimo al massimo ascoltiamo le affermazioni contenibili in un tweet con i congiunti sbagliati con i contenuti sbagliati peraltro ecco come come ci aiuti a comprendere questo passaggio da analisi di Moro 6 ore di relazione concetti filosofici io da cognati io da giovane cronista ho avuto la fortuna di assistere in Parlamento a dei dibatti di politica estera in cui parlavano Andreotti Paglietta Amendola Ingrao c'è gente che come dire erano delle piccole elezioni per quanto con tesi contrapposte di politica estera cioè poi Andreotti è quello che è nel bene e nel male quindi non entro nel merito della produzione del personaggio però era un signore con una capacità di conoscenza e di analisi della politica estera che nessuno immagina io ho fatto un viaggio con lui in Iran e in Iran dopo otto anni e mezzo di guerra con l'Iraq lo hanno accolto come un errore nazionale perché lui era stato capace alle Nazioni Unite di scrivere quella risoluzione che mise fine a una guerra che aveva fatto un milione di morti senza che si riuscisse ad andare avanti e indietro o indietro cioè quindi diciamo stiamo parlando di persone e io sono tutto meno che anderottiano e democristiano quindi cioè però stiamo parlando di un livello allora oggi il problema qual è è che primo nessuno ha voglia di impegnarsi in una impresa fatiscente e apparentemente vicina al collasso come quella politica numero due se tu cominci a pensare che quello che sta sopra di te è peggio di te ma è arrivato là perché gli hanno dato un calcio in culo perché è amico di quell'altro perché la cosa cioè capisci che ti cadono le braccia e dici ma io perché allora voi vedete che poi nella diciamo nel dibattito politico nazionale la qualità la profondità di ciò che si discute è di una bassezza enorme infatti di cosa si parla di gossip si parla della diciamo oggi quello fa un tweet io gli rispondo quell'altro sbaglia e questo è il dibattito politico ma sei ore di Aldo Moro era una lezione all'università ma quello insegnava l'università oggi non mi far fare dei nomi ma insomma cioè però capisci c'è la questione dell'Afghanistan ma in mano a chi sta ma in mano a chi sta io con tutta la simpatia e anche diciamo la buona volontà come direbbe Papa Francesco ma non ce la faccio non gliela faccio proprio non perché vedo proprio una allora io ieri io ieri ho fatto un tweet pubblicando la fotografia del console italiano a Kabul che sta là con la camicia c'ha una lacoste rosa mi ha fatto tenerezza una lacoste rosa un giubbotto antiproiettile un elmetto messo un po' così vicino ai carabinieri armati e sta cercando di evacuare i connazionali e quelli che ci hanno aiutato per vent'anni e allora quello secondo me è quello quello mi rappresenta lui no? e diciamo faccio difficoltà essere rappresentato uno in costume da bagno questa però sarà un mio limite anche no? ma credo che sia un limite che condividiamo in molti ma proprio per questo ti chiedevo sempre restando un po' sulle questioni di Cassa Nostra poi alla fine se vi stiamo annoiando smettiamo però siamo appena all'inizio perché prevediamo non prima delle tre le quattro credo vabbè su questo non mi sfidavo quindi la domanda che in qualche modo ti ripropongo alla fine poi queste persone sono lì perché sono state votate da milioni di italiani dove si è inceppato il meccanismo di selezione della classe dirigente per cui da alcuni decenni abbiamo un continuo deterioramento beh il problema è di questo sistema elettorale che non consente le preferenze no? cioè voglio dire sono i partiti che ti impongono una lista chiusa bloccata e tu la devi votare penso che già cambierebbero molto le cose se ci fossero le preferenze molto no? perché diciamo a me farebbe piacere magari votare il ventesimo in lista che ritengo una persona e non quello che viene messo al numero uno perché deve andare comunque deve salire sull'autobus io questa è la prima cosa la seconda naturalmente i partiti hanno un'enorme un'enorme responsabilità perché il distacco che hanno ve lo dice uno che vive a Roma cioè io li vedo cioè io ho visto anche questi cosiddetti nuovi che dovevano fare la rivoluzione fare chissà che cosa ma questi hanno sono impazziti hanno scoperto i ristoranti le macchine blu la sera c'è capito si mangia il gelato cioè ma guardate che cioè il problema sembra una battuta ma dire ma questi poi se li rimandano a casa ma che fanno cioè è così è così no allora e questo è molto grave perché prima diciamo c'era sempre una quota diciamo di persone che venivano indicate dai partiti perché facevano parte della struttura eccetera poteva piacere o non piacere ma poi c'era una quota di persone che erano vocate alla politica cioè a me piacerebbe per esempio io l'ho fatta da giovane a me piacerebbe fare politica ma io con chi vado ma dove mi metto a parte che non mi vogliono ma insomma e quindi già questo abbiamo chiuso il problema però anche se volessi come vado a dove vado dove mi dove mi metto con chi parlo e poi mi sento come dire no sei come quelli che andavano alle feste stavano seduti in un angolo che non li invitava nessuno a ballare non ballavano cioè erano sì magari potevano intrigare perché dice chi è quello così così introverso che sta là nell'angoletto intellettuale intellettuale sì però insomma io penso che ci sia un problema molto serio di distacco tra i partiti e la cosiddetta società penso che questo sia uno dei problemi fondamentali il secondo problema è che la società non si vuole mettere in gioco con questa classe politica e c'ha ragione cioè perché io mi devo mettere no alla pari di questi qua che non non sono allora io sono pur non essendo un draghiano pur non essendo però sono felice che ci sia uno che almeno ne capisce e che spero che riesca a a fare in modo che questi soldi che arrivano non finiscano nelle mani di chi ci si deve costruire una casa ma che veramente riescano se non altro a migliorare alcune condizioni strutturali di questo paese perché questo paese abbia una prospettiva pensate soltanto a quando la cosiddetta sindaca di Roma Virginia Raggi dico cosiddetta perché è il minimo che posso dire rifiutò di fare le Olimpiadi a Roma e ci avrebbe rifatto alla città e invece delle Olimpiadi ci abbiamo una groviera per non dire il resto con i cinghiali cavalli i tori cioè ormai potrebbero fare un bioparco a Roma le cose guadagnerebbe di più c'era anche il progetto delle pecore Bruca Erba ah sì le pecore che dovevano per tagliare nei giardini di Roma aveva inventato le pecore sì invece prima di sentire dal pubblico eventuali domande tornando per un momento al romanzo e cercando di toccare tutti anche altri aspetti il romanzo dicevamo prima è estremamente intrigante perché la storia di questo di questa ex spia a cui succedono una serie di cose succedono una serie di cose provocate sia dall'appartenenza all'ex servizio segreto della Repubblica Democratica sia dall'azione dell'ex KGB ricreato sotto altro nome c'è una logica di geopolitica che si muove nell'affermazione di una nuova potenza la Russia il presidente Putin è molto riconoscibile nel tratto spero che non si sia molto riconosciuto speriamo di no viste le conseguenze che ci sono poi nel romanzo questo solo per dire che tutto funziona come un orologio svizzero nella previsione di questi servizi segreti poi alcune cose vengono scombussolate dall'irrompere dei sentimenti guarda io per 40 anni per motivi di lavoro ho conosciuto spie di tutte le appartenenze nazionalità spie del KGB spie americane spie francesi medio orientali quindi italiane e a un certo punto ho detto ma insomma perché comunque circolava questa questa voce che poi io in qualche modo ho ritrovato anche in un paio di film se qualcuno ha visto senza via di scampo quel film con Kevin Costner che fa l'ufficiale di Marina che sta al pentagono mi pare che il titolo originale è No Way Out una cosa del genere che a un certo punto stanno per arrivare a lui per scoprire che è una spia e lui invece è perfetto eccetera c'era anche Gene Hackman che faceva il ministro della difesa negli ultimo tutti si ricordano il film eccetera nessuno si ricorda l'ultimo minuto e mezzo del film in cui lui riesce a scappare dal pentagono perché lo hanno ormai scoperto e si rifugia in una piccola casetta sul sul fiume entra dentro ci sono delle persone e lui comincia a parlare russo e dice ma perché mi avete abbandonato no? e allora la voce che girava è che la voce insomma pare che questa cosa mentre gli Stati Uniti diciamo in America si era molto concentrata sulla tecnologia l'intelligence sovietica era molto affascinata dalla psicologia cioè dall'uso della psicologia nel condizionamento delle persone anche gli americani hanno fatto un po' questo esperimenti con l'LSD eccetera però diciamo che i sovietici erano molto attratti dall'uso della psicologia nel condizionare le persone e la voce che girava era che in alcuni paesi dell'Europa occidentale avessero deciso di selezionare dei bambini per farli crescere in quei paesi quindi come cittadini di quei paesi ma condizionandoli con l'ipnosi per farli diventare delle perfette macchine per uccidere nell'ipotesi in cui ci fosse stata un'operazione speciale da fare certo sarebbe stato più semplice utilizzare qualcuno che era già in quel paese e che far venire da Mosca un commando che poteva essere scoperto poi a un certo punto questa cosa che sembra che avessero KGB avesse affidato la Stasi finisce nel crollo del muro di Berlino nel crollo della Stasi e questi bambini che intanto crescono ancora sono tra noi allora sulla base di questa diciamo ipotesi ho costruito questo romanzo che tu l'hai letto secondo me è molto più femminile che maschile nel senso che le donne sono le spie donne sono sono i veri personaggi sì sono insomma sono una spanna sopra gli uomini ma soprattutto la cosa che mi ha intrigato è quella di cercare di raccontare le spie dal punto di vista umano tu giustamente hai parlato di sentimenti cioè tu puoi immaginare lo scenario più perfetto del mondo ma poi il sentimento può far saltare qualunque operazione e questo è un po' quello che accade in questo in questo romanzo e però anche diciamo appunto restituire umanità alle spie che non si sa perché nella tradizione nell'immaginario escono solo di notte camminano nell'ombra sono diciamo tristi piove sempre no invece no questi fanno una vita io una volta con una spia del KGB che era Roma sotto copertura giornalistica nel senso che faceva finta di essere un giornalista della TAS poi spariva due anni poi tornava come giornalista della Novosti che è un'altra agenzia poi spariva poi era giornalista della Pravda ma insomma era chiaramente una spia io glielo dicevo anche oh no no non sono una spia vabbè a un certo punto un giorno andiamo a pranzo e mi porta in una trattoria un po' diciamo decentrata e ordina una cotoletta con le patate fritte perché gli piaceva piace pure a me quindi pure io ordino le cotolette con le patate fritte ordiniamo questa cotoletta e dopo un attimo lui si mette a piangere come un vitello ma io cioè ma che succede no no niente che si asciugava col tovagliolo e io ho detto sarà molto qualcuno a casa è successo qualcosa di brutto perché veramente era turbato e piangeva e piangeva ma che è successo ma che è successo ma che è successo intanto arriva la cotoletta con le patate fritte io comincio a mangiare perché e lui dice no è successo una cosa terribile questa mattina ho parlato con mia figlia e mi ha detto che vuole fare l'attrice bello gli ho detto è bella scelta complimenti dice no tu non capisci eh no che cosa devo capire tu non capisci che questa per me è la fine la rovina perché perché le attrici sono tutte puttane mi fa ma dico dove scusa ma che è sta roba no tu non capisci le attrici da noi sono tutte puttane io ho messo anni per costruire e lì capisco allora all'epoca del diciamo del muro di Berlino non solo fare il diplomatico ma fare la spia significava che il sistema si fidava di te al 101% perché ti mandava all'estero ti dava i soldi in valuta ti consentiva di fare una vita che la stragrande maggioranza dei sovietici non avrebbe neanche immaginato di fare ma anche a casa ti dava una serie di privilegi i figli potevano andare all'università vivevi in un quartiere speciale potevi andare a comprare cibo e altre cose che altri non potevano comprare e secondo lui il fatto che la figlia avesse deciso di fare l'attrice mi avrebbe rovinato questa costruzione che lui aveva messo in piedi e allora questo per dire mi ha molto appassionato e intrigato perché ho detto pensa un po' questo sta lì che fa la spia e viene ogni volta che era il mio nomastico lui si presentava con una glassetta per il vino auguri buon nomastico a Sant'Andrea capivo che insomma magari avrebbe messo in nota spese 2000 euro e la glassetta le costava 10-5000 lire 3000 lire ma questo chi se ne importa però loro erano capito molto attenti e poi erano affamati di sapere di politica di terrorismo di cose eccetera volevano gli piacevano queste cose gli piacevano queste cose sapere perché comunque l'Italia insisto aveva un suo ruolo inimmaginabile in Europa cioè era un paese di confine cioè era il paese che diciamo portava da est a ovest e da ovest a est quindi c'era il partito comunista quello che succedeva quando fu rapito Moro questi erano impazziti tutti quanti i servizi segreti che stavano in Italia erano impazziti volevano sapere le brigate rosse cosa è successo cosa sta succedendo cosa accadrà cosa faranno capito e quindi diciamo però in tutto questo c'era anche l'umanità per cui questo era impazzito perché la figlia aveva detto che voleva fare l'attrice e da una parte voleva sapere le brigate rosse chi erano e cosa facevano e dall'altra viveva questo dramma personale delle attrici che sono delle poco di buono e io mi sono mangiato la cotoletta con le patate fritte e gli ho detto mi dispiace molto per te non so che posso fare il sacrificio della cotoletta l'ho rivisto poi perché è entrato nella staff di Gorbaciov e quindi evidentemente poi la figlia non gli ha creato più di tanto dei problemi o non ha avuto molto successo o non ha avuto molto successo bene io direi se andrei d'accordo chiederei al pubblico di fare qualche domanda se ne hanno voglia prego prego io vorrei sapere da lei cosa ne pensa ma profite ripetimi papa prova ok vorrei sapere da lei cosa ne pensa dello stranissimo sodalizio di un senatore della Repubblica Italiana ex premier con il principe Bin Salman perché in realtà credo che sia accaduto qualcosa di innovativo diciamo per lo scacchiere politico italiano ed è stato totalmente insabbiato anche dai mass media nel senso non se ne parla più ci ho fatto tre puntate certo quindi le ho seguite le ho seguite volevo sapere cosa ne pensa e magari se voleva cosa vuole che le dica secondo me diciamo è stato per dire una cosa buona uno scivolone nel senso che intanto sta in mezzo è una crisi di governo sai chi è Bin Salman vai là a dirgli che quello è il nuovo rinascimento dopo che ha segato in sette pezzi un giornalista nel consolato a Istanbul mi sembra cioè voglio dire non hai capito neanche che cosa sta succedendo dove stai con chi stai davanti a chi stai è stato uno scivolone ma il problema il problema cioè Renzi è il paradigma poi di una diciamo di una modalità di comportamento perché per me non è da meno chi vende due fregate al Sisi come dicevo prima e si ritrova senza con un pugno di mosca in mano sulla storia di Giulio Reggeni e su Patrizacchi che sta in carcere ma come per tutti quelli che stanno in carcere avere a che fare con questi paesi cioè o tu c'hai il peso specifico oppure vuoi fare affari fai affari fai conferenze fai interviste quello che ti pare insomma cioè c'è anche è difficile metterle insieme queste due cose no? dal mio punto di vista non si possono mettere insieme cioè tu non puoi vendere due fregate al Sisi finché quello non ti ha dato i nomi e ha messo in carcere gli assassini di un ragazzo che per colpa degli inglesi è andato a fare delle domande che non doveva fare agli ambulanti egiziani ed è stato torturato e fatto a pezzi e riconsegnato perché tutti lo sappiate perché ho visto l'autopsia e l'hanno riconsegnato con le orecchie mozzate dalle orecchie hanno tolto i triangoli dove gli avevano spento le sigarette sopra questo per dire la cosa meno orribile che gli è stata fatta allora di fronte a una cosa di questo genere secondo me esiste non soltanto una valutazione di tipo politico ma una coscienza morale allora tu ci devi pensare 75 volte perché non è che a noi ci ha cambiato la vita che hanno venduto due fregate ad Al Sisi avete avuto un aumento di stipendio voi o della pensione no allora non gliele vendi va bene chi se ne frega delle fregate questo penso io e gli fai capire che se le vuole deve fare qualche cosa anche lui per guadagnarsene ma se no così è imbarazzante perché io stesso non mi sento garantito ma se io finisco da giornalista in mano ai talebani a chi mi rivolgo a Conte che ha detto con loro si tratta sono bravi ma stiamo scherzando voglio dire questa è proprio la la misura e il termometro di come la politica italiana non sia capace di capire che cosa fa no procede così e quindi ecco il risultato poi no cioè lì hanno fatto quello ha fatto a pezzi a parte tutti gli oppositori che c'è in carcere quello che il controllo ma ha fatto a pezzi un giornalista dentro il consolato di casa sua in Turchia convinto che quella cosa sarebbe finita nel dimenticatoio cioè io non penso che si possa accettare una cosa del genere in nome di tutti per esempio i giornalisti che vengono ammazzati ogni anno in giro per il mondo facendo il loro lavoro non si può fare una cosa di questo genere non è tollerabile non è una questione diciamo da liquidare facendo col ditino non dovevi farlo non è proprio una cosa più grave è una cosa più grave perché indica secondo me o l'indifferenza rispetto a quello che questo signore fa oppure diciamo in qualche modo la complicità in nome di una visione politica illuminata che tu hai e che invece non c'è perché non c'è la lampadina capito questo grazie vediamo un'altra domanda buonasera volevo sapere se ha mai temuto per la sua vita e se ha mai subito censure guardi è una domanda difficile a cui rispondo nel senso che io ho temuto per la mia vita quando sapevo che stavo diciamo in una condizione complicata ho temuto per la mia vita quando mi hanno informato che per esempio quando io sono andato in America io stavo già una sera sono andato in America studiale e sono andato perché mi hanno detto guarda che abbiamo sequestrato una lettera di un brigatista in carcere un brigatista latitante per cui ti devono ammazzare e allora io ho detto ti diamo la pistola ti diamo la scorta ho detto no grazie e per fortuna si sono comportati molto bene al giornale ho preso diciamo due anni di aspettativa e me ne sono andato poi ho avuto la scorta per sei mesi perché Saddam Hussein aveva deciso che mi dovevano ammazzare perché gli avevo insomma fatto un'inchiesta su una società che aveva fatto anche in Italia per comprare armi e quello poi l'iracheno che mi doveva mi doveva ammazzare è tornato a casa il giorno prima della guerra del golf hanno imbarcato su un aereo è tornato a casa e Saddam ha impiccato lui insomma cosa che non mi piace peraltro in quei casi io lo sapevo negli altri casi non l'ho saputo a volte mi hanno detto guarda ti è andata bene perché perché ti è andata bene senza adesso stare a spiegare perché però penso che comunque questa sia una cosa diciamo che in qualche modo uno deve mettere nel conto se fai questo lavoro perché se no se no non lo so faccio un'altra cosa insomma no cioè quindi è chiaro io so che quando ho fatto tre puntate contro sulla storia di Cassoggi per Bin Salman mi si sono scatenati i sostenitori di Bin Salman su Twitter Soko quando l'ho fatta su Putin quello che è successo quando l'ho fatta su Trump poi le cose a volte sono evidenti a volte non lo sono no cioè comitato italiano pro Trump che ha scritto alla Sette dicendo che non dovevano più farmi andare in televisione piuttosto che la comunità ebraica che non voleva che io parlassi di quello che succedeva a Gaza ma io cioè non non sono cose che cioè sono cose che non puoi cioè se ti metti a calcolare a valutare queste cose non fai più niente insomma quindi le fai no però devo dire che molte volte preferisco quando ricevo delle minacce o avvertimenti espliciti perché generalmente quando te li fanno poi non ti succede quasi niente e quando non te li fanno che mi preoccupa di più magari quando faccio le trasmissioni sulla mafia no che sento che c'è qualcosa ma non nessuno apre bocca però questo senza stare a fare gli eroi insomma credo che chiunque faccia questo lavoro se lo fai e tocchi questi argomenti sai bene che che può essere rischioso e pericoloso insomma cerchi di farlo nel modo più corretto possibile più oggettivo possibile e poi e poi la mattina quando esce i controlli se non ci sono due fili che spuntano dal motorino questa è una cosa che grazie a questo poi che Atlantide è stata premiata nel 2019 come migliore trasmissione culturale con il premio Flaiano mi fa piacere ricordarlo anche per la prossimità che abbiamo con il premio Flaiano vediamo altre domande mi preoccupo quando mi danno i premi alla carriera molto mi preoccupo va bene allora io posso ringraziare ringraziamo facciamo un applauso a Luciano D'Amico perché è stato è stato paziente siamo noi che ringraziamo no io voglio ringraziare tutta l'amministrazione gli organizzatori del festival di John Fante che comunque Giovanna è il sindaco no voglio ringraziarvi perché John Fante che è stato un grandissimo scrittore questo non lo scopro io però è stato anche uno sceneggiatore questa cosa mi piace molto ricordarla perché perché non tutti gli scrittori sono sceneggiatori e non tutti e secondo me forse lui dal punto di vista cinematografico è stato utilizzato e apprezzato poco forse poteva fare e dare molto di più e però è giusto è bello ricordarlo ed è ed è bello farlo anche qui diciamo dove aveva le sue radici e io so anche con quale sforzo poi in questi anni tutti diciamo le amministrazioni che hanno fatto degli eventi culturali sono riuscite a metterli in piedi perché non è una cosa una cosa semplice e però d'altra parte se noi non conserviamo la nostra diciamo memoria la nostra cultura la storia le radici oggi Virginia ha fatto un bellissimo ci ha fatto passare un bellissimo pomeriggio parlando di Dante per i bambini che io trovo che sia no sia un modo inedito per parlare di un poeta che comunque è considerato non soltanto da noi italiani ma anche all'estero diciamo un grande maestro allora è molto bello fare queste serate a me piace molto io vi ringrazio tanto e anche per l'attenzione con cui avete ascoltato queste cose dette dopo questi bicchieri di vino rosso ma la colpa è del sindaco quindi la prendete con lui e speriamo di rivederci anche il prossimo ma noi ti invitiamo già l'anno prossimo dico bene invitato già per l'anno prossimo ecco certo ringraziamo Andrea Purgatori davvero grazie grazie mille grazie a voi per questa serata di riflessione ah no no fatemi dire che il 9 settembre io ricomincio con una puntata sui 20 anni dell'attacco alle torri gemelle e la settimana successiva faccio una puntata sui 20 anni in cui siamo stati in Afghanistan quindi tutto quello diciamo che si può raccontare proverò a raccontarlo in queste due puntate che mi sembra giusto fare in questo momento grazie grazie mille grazie grazie ancora Andrea grazie grazie il professor Luciano D'Amico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti